E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale e il Centro di Formazione Internazionale CIFOIL. Nel loro soggiorno al campus, i partecipanti ai corsi di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sono invitati a visitare Palazzo Lascaris per conoscere le istituzioni piemontesi e approfondire argomenti di interesse economico e culturale. Per me questa è una bella occasione per esprimere al Presidente del Consiglio regionale e anche alla Regione il mio apprezzamento per il sostegno, che i due enti forniscono al Centro Internazionale di Formazione dell'ILO e per le competenti conoscenze che il Piemonte condivide con i partecipanti ai nostri corsi che provengono da ogni parte del mondo, per cui è veramente una grande opportunità che apprezziamo molto.